E' come salvare il soffritto mio? La situazione, la situazione sta molto difficile. Ma perché, padrino? Perché? Che cosa succede? E' che lo explica, pepino. Resulta che vostro tio, Don Corleone, tiene una grave enfermedad. Non mi asusti, compagniero. Si, hijo, te muero. Ma perché, però se siostra andava freddo con una rosa, e' essere arte, Giuseppe, e' altre cose. Quindi, deve andare a una clinica a curare una enfermedad. E, prima di andare, deve lasciare il negozio in mano di tutti voi. Padrino, io sono il più efficiente. E anche il meno intelligente. Caglia, non riesce a perdere il mattino, come? Si, però si mi ha insuffito, maldita sia. Padrino, che mi ha detto, che si non è, che si non è? Che si non è, che si non è, che si non è. Sì. Però se tu è un più pari e un più pobretone che una carretilla di calvone. Caglia, e' inruenza, e' inruenza. E' inruenza. E' inruenza. Io ho preparato una prova che ha più vasta che la dei sinos del 1-2-3. Però, per, che male ha detto che ti ha detto. La prima prova si denomina, «Quien va a prender la rettiva?» è la che si elimina. E consiste in una prova di forza. Come sarà la pellea quando comienza la musica, e termina quando termine la musica. La musica è la musica, e termina la musica. La musica è la musica, e termina la musica. La musica è la musica, e termina la musica. Sì, perché a mia me la è come la fortuna. Questo è malezzo. Io sono il suo superiore. Che pelea ma assurda. Che chiamo mio perché te lavo la assurda. Passaremo alla seconda prova. Questa prova è l'intelligenza. Perché il che migliora risposta è il che ha più scienza. Sì, Giuseppe, tu come la mia per il negozio familiare in la Madora che abbiamo in la Casa della Flore? Vendessi mal la Madora. E noi la vediamo nel anno 32. Ah, 32. Perdono. Poi io, e analizzando la situazione, a grosso modo, la venderei con una butaca con il infermiio per la francesca. Con il mio grande indio per il superiore. E con la tele incluida. Mientras che la vora no vale a signore mio. Nada, la signo futuro. Non c'è nulla di questo. Io vorrei, io vorrei una buona promocione. Con annuncii, cartelli, con SD, buque e compagni. E Platon, chiquillo, il del Colò. Non c'è nulla di più scienza, sobrino. Che stiamo insieme al mercenario. E già lo sappiamo. Abbiamo visto che ci stavano in il diario. Dottor Leone, a mi non mi convence ninguno. A mi tampocco. Uno parece la mayra, e l'altro è un torre bruno. Martino, tu ti dà la cuenta. Esto sta pateado. Lo quieren confundir. Es como están liaos, si no quieren repartir. No, 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 no. Eh, Martino. Ya te fueron, tu sobrino. Que bien mentiste, pedino. E a te, jefe, la cava che se le è giusto. Quando le dìgero lo del Sida, no te risupe. Ah, che passa la charbatea. Por poco me mochea. Verdad, Martino. Lo del Sida, puoi jugare con su vida. Si, grazie. Papi, api, api pippi. Papi, api pippi aji pippi. Capi, api pippi. Papi, api pippi. Papi. Grazie a tutti. 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 e... a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. 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 e... e... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.